Vitaliano Bilotta, Silvia, detta Cap e Mirio trapassano, Aracne editrice. Il volume conclude la trilogia di Silvia e Mirio, iniziata con Tattica Aperta 2018 ed Essere nel problema 2019, l'autore narra l'esperienza dei protagonisti nel dopo morte alla luce dell'insegnamento, letto sincreticamente, dei maestri che comunicano attraverso grandi medium. Grazie a tutti.